Quella che sto per raccontarvi è una storia che vi farà emozionare, che narra di colui che ama le feste, ma su tutte una in particolare. Quindi mettetevi comodi e siete pronti ad ascoltare, perché con grande onore che vi presento lo speciale di Natale. Sta arrivando il Natale. Ok, penso di avere tutto. Luci, ghirlande, albero, presepe. Quindi vediamo di rendere natalizio questo posto. Ehi Google, accendi albero. Dovete sapere che il nostro protagonista aspetta tutto l'anno questa festa. Presepe, luci e sull'albero la stella. Tutto quanto per rendere la sua dimora ancora più bella. Ehi Google, buon Natale! Così, tutto orgoglioso si ferma per ammirare il suo lavoro, ma poi purtroppo si rende conto che per la prima volta a Natale lo passerà da solo. Ma dentro di lui lo spirito natalizio è forte. E di cercare una soluzione non se lo fa ripetere due volte. Merry Christmas, ladies. Merry Christmas, Mr. Buble. Are you ready to sing a little jingle bells? Yeeeesss! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Tortellini. Tanti tortellini. Tantissimi tortellini. Non finiscono più. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh. Dashing through the snow in a one horse open sleigh. All the fears we go, laughing all the way. Bells on bop till ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleigh'in' song tonight. Jingle bells, jingle bells. Bells on bop till ring. Qui sono tutti i regali per i nipoti del Frank, che è mio nonno. L'abbiamo fatti insieme, gli ho dato una mano. E nulla Frank, ci fai gli auguri di Natale? Buon Natale. Buon Natale. Buon Natale a tutti. Grande Frank, sei il migliore, sei il migliore. Ah, matta. Sono venuto per Natale a trovare i miei genitori che sentivano la mia mancanza. No! Mi hanno fatto una mappace di Natale. Ciao Gilles Wittorio, le voglio bene. Ciao, auguri. Dopo tutto quello che Jacopo aveva appena fatto, c'era comunque un dettaglio che non tornava. Infatti dalla solitudine si era solo distratto, e ora di nuovo qualcosa gli mancava. Era tanto semplice in realtà la soluzione. Il compagno fedele al fianco del suo padrone. Così si conclude questa breve storia. Grazie di cuore per averla ascoltata per intero. Vi auguro un Natale pieno di gioia, e vi ricordo che forse la magia esiste davvero. Grazie a tutti.